L'accorpamento delle Camere di Commercio di Ragusa e Siracusa con quella di Catania è un'operazione che non capisco. Così il sindaco di Acate, Franco Raffo, sabato, presenta l'ex provincia di Ragusa per partecipare ad un incontro sull'argomento. Probabilmente è un'operazione valida sotto il punto di vista economico, ha puntualizzato Raffo, ma nuto delle perplessità, in quanto potrebbe penalizzare ulteriormente la provincia eblea, definita virtuose punto di riferimento e quindi privandola, inspiegabilmente, della sua autonomia e di una struttura, appunto la Camere di Commercio, fondamentale per lo sviluppo di imprese e aziende. Durante il suo intervento il sindaco di Acate, inoltre espresso apertamente il proprio dissenso verso l'accorpamento, già regolato, dice da un'apposita legge che nessuno vieta di modificare, frutto dell'ennesima assenza della politica e dell'indifferenza delle istituzioni. Raffo ha quindi avanzato una proposta, ossia se accorpamento deve essere, allora che sia solo con la Camere di Commercio di Siracusa. E' una realtà a noi molto vicina, spiegato il sindaco e con numerose affinità comuni, mentre andare anche con Catania ci metterebbe in condizione di sudditanza, trasformando la struttura di Ragusa in una semplice succursale.